Giocatore di grande spessore caratteriale e tecnico, così il DS Rinaudo ha presentato Leandro Greco alla vigilia del raduno della Cremonese. Un sentimento ricambiato dal centrocampista classe 86 dai trascorsi importanti, ex compagno di squadra dello stesso Rinaudo ed ex giocatore di Mr. Mandorlini al Verona. Ha scelto Cremona dopo aver valutato il progetto avviato per questa seconda stagione di Serie B. Con Leo ho giocato insieme, quindi riconosco la persona e quindi so che quello che mi ha detto, quello che mi ha rappresentato corrisponde poi a quello che troverò, perché non è poi così semplice e facile trovare persone che ti parlano in maniera onesta e corretta, quindi c'è stima reciproca con il direttore. Il mister l'ho avuto a Verona, so cosa può dare a una piazza così, anche a me come calciatore, come uomo, quindi sono state veramente due petine fondamentali per poter scegliere questa nuova avventura. E poi tanta voglia di rilanciarsi proprio con i colori grigiorossi, dopo due anni non facili trascorsi in terra pugliese. Non è stato mai importante e fondamentale pensare a quello che ho fatto nella mia carriera, perché poi si riparte da zero sempre ogni anno, c'è sempre da dimostrare. Quindi poi quando ci si ritrova a giocare in Champions e magari poi fare due anni come ho fatto io, bisogna avere anche l'onestà di riconoscere quali sono stati gli errori fatti, quelli che poi dipendono realmente da me, perché poi si incontrano persone che possono cambiare il destino di ogni giocatore e la carriera. Vengo qui non pensando a quello che ho fatto anche questi ultimi mesi, ma proprio con la voglia di rilanciarmi, di pensare che è un'opportunità importante per raggiungere un risultato importante. Le mie caratteristiche sono centrocampista che ha fatto tutti i ruoli, anche con il mister, ha fatto il mediano davanti a difesa, la mezzala, la mezzala destra. Ho fatto questi ultimi mesi davanti a difesa, quindi non ho preclusioni di ruolo.